Ecco l'amichevole del Lanciano maglia bianca e la Virtus Castelfrentano con la maglia gialla. E il secondo tempo, il primo tempo è terminato con il punteggio di 1-0 a favore della Virtus Lanciano. Calcio di punizione, fischiato da Mr. Gabriele a nostro favore. Calcio all'angolo. Calcio all'angolo a favore della Virtus Castelfrentano che si trova in vantaggio per una rete realizzata. Qua c'è l'altro gruppo nostro di titolari, in esercizio ginnico, dirige l'esercizio. Francesco Mancini, Mr. Neopromosso. Ecco Teddy. Bravo. Giudic, Giudic, Giudic. Quatt, 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 quatt.